buongiorno a tutti amici oggi è un po che non ci vediamo cioè un po che non registro in realtà questo video lo vedrete non so quando è una giornata abbastanza calda di fine febbraio icnusa per non dimenticare gli ottimi tempi sardi sono qui in sardegna stavo dicendo non so perché sono qui a sestriere sestriere non lo so sono tornato qui sulle mie montagne perché si volevo un posto tranquillo dove aprire questi 150 milioni di pacchi che ho ordinato su amazon che tante persone mi hanno regalato perché meno della metà sono miei acquistati da me e tutti gli altri sono stati sono un regalo quindi voglio iniziare ringraziando tutte le persone che hanno che mi hanno regalato qualcosa è veramente tutto molto bello sono tornato qui in piemonte dopo lo sardegno fatto circa dieci giorni in toscana dove però non ho filmato nulla quindi non vedrete nulla di questi di questi giorni tra toscana e liguria e poi ieri sono andato ad antonio wild road garage a vedere un po i lavori da fare sul mezzo e prossima settimana iniziamo come vi avevo anticipato la mia idea è quella di andare in svezia le cose stanno cambiando velocemente quindi io adesso voglio semplicemente avere il mezzo pronto e poi vedremo se sarà fattibile o no l'importante avere il mezzo pronto le gomme chiodate chiudabili e i chiodi tutto quello che serve per essere attrezzati al grande freddo se poi riuscirò a partire bene altrimenti sono sicuro che troverò una soluzione per andare altrove sicuramente non voglio restare in italia perché ci sono troppe limitazioni in questo momento secondo me al viaggio in svezia vado subito a controllare perché sto registrando con l'iphone che è la e con la sony a 7 3 16 35 microfono esterno perché secondo me l'audio è migliore però faccio delle prove sto filmando sì allora iniziamo boh questo che secondo me è una bottiglia di vino allora questo pacco è stato inviato da giovanni barlocco quindi grazie giovanni anticipo che molti non ricordo perché sono stato in sardegna cinque mesi e ho fatto spedire questa tutti questi pacchi a casa dei miei zii che hanno un garage dove tengo la roba che che mi arriva con amazon posso farmi inviare la roba anche in giro per l'italia tramite gli a blocker però far inviare pacchi in giro non so poi dove sono è più difficile quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno invitato scusate ho già bevuto una birra prima e sono leggermente sbronzo e ho già bevuto sì volevo dire ringrazio tutti quelli che mi hanno inviato dei pacchi se non se non vi ringrazio personalmente abbiate pazienza però non offendetevi faccio un ringraziamento generale adesso perché sì ah sì questi sono dei ragazzi bella storia fatto a mano con amore romeo d'ora in poi chiama mio amore è un limoncello che producono questi ragazzi distilleria radelli quindi grazie regalo super apprezzato per qualche serata molesta non durerà molto ma va bene è apprezzato dopo butto tutto non rompete i miei c***o che inquino perché dopo butto tutto non preoccupatevi questo è un pacco di amazon comprato non lo so quando cosa c***o ho preso ah ok 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 allora Solbio Solbio è un disgregante che mi aveva fatto provare Alex Camper di Avigliana era stato molto gentile l'ho provato viene pubblicizzato come un disgregante naturale per poter scaricare in giro ho già detto qualcosa riguardo insomma non voglio dire altro però visto che in giro per la Svezia probabilmente non troverò posti dove scaricare magari utilizzerò questo non lo so è molto più probabile che vada a fare la cacca nei boschi però fare la cacca a meno venti forse non è tanto piacevole quindi non lo so vedremo vabbè poi questo cosa che è ah ok sì forse ho capito ah e il coltello con cui sto facendo l'unboxing è un'arburesa che è un altro coltello tipico sardo rispetto alla pattadesa che ha questa forma particolare questo è un'arburesa e la pattadesa è dentro ma sapete tutti qual è questo invece non si vede tanto spesso io conoscevo di più l'altro ho ordinato due pompe dell'acqua due pompe dell'acqua voi direte perché compri la solita pompa dell'acqua che tanto si rompe ogni sei mesi perché costa poco finché non troverò uno sponsor che mi dà una pompa dell'acqua decente non ho voglia di spendere 100 euro e voi direte ma 100 euro ti compri 5 pompe dell'acqua ma quella lì dura di più sì è vero è conveniente però dovrei fare tutto un lavoro e non ho cazzi cioè magari per montare una pompa dell'acqua mi chiedono 200 euro quindi con 40 euro vado avanti un anno e amen per quale motivo si rompono non lo so perché magari carico acqua con dei sedimenti io comunque utilizzo un filtro dell'acqua però sti cazzi magari quindi per sicurezza ne comprate due visto che se si rompe la pompa dell'acqua sono nella merda più totale ma che è? no vabbè ma che è? oh no aspettate non ho detto che mi ha mandato il pacco mamma mia che disordio non c'è uno mauro lussignoli da brescia mi ha spedito un libro la vita oltre credo sia riguardi la montagna mi ha lasciato anche un bigliettino un piccolo pensiero per una grande persona grazie per la compagnia speriamo di beccarci e bere una birra prima o poi mauro e laura ps il miele lo facciamo noi perché oltre a questo libro che metto qua e dopo metto via mi hanno regalato wow del miele da consumarsi entro giugno 2023 però io dico perché non assaggiarlo quindi mi verrà il diabete ovviamente ce l'ho già grazie mille ragazzi super apprezzato regalino per sherry penso spettacolo panno di stelle perché io lo mangio un po' e via ops allora oh madonna allora ah si ho comprato un cavetto rod sc7 che serve per usare il microfono che sto utilizzando adesso sull'iphone per quale motivo serve un altro cavo non lo so per rompere i coglioni molto probabilmente ne ho ordinati due credo che sia un errore o forse no vabbè ho comprato un phone da utilizzare in svezia quando mi si ghiaccerà tutto perché sicuramente succederà me la sto tirando me la sono già mandata però stica dovrebbe essere un 1200 watt e voi direte ma se hai un inverter da 600 watt come fai a farlo funzionare e io vi dirò che nella posizione uno dovrebbe essere 400 800 1200 arrivo subito sto ancora registrando questo unboxing sarà tipo di 40 minuti io già me lo sento quindi il forno mi servirà a quello e speriamo che non si ghiacci nulla però io voglio essere comunque preparato nella peggiore delle ipotesi ho preso ho preso ho preso delle lampadine nuove sono delle h1 quindi sono gli abbaglianti credo non lo so comunque osram 80 watt non so se vadano bene boh li provo poi ho comprato il sono stanco poi ho comprato bagnoschiuma 8 da 500 grammi credo quindi anche questo lo utilizzerò per poter lasciare le grigie aperte come avevo detto nel video pubblicato sul resoconto del viaggio in sardegna in alcuni viaggi in alcune situazioni non ci sono alternative bisogna lasciare le grigie aperte e voglio farlo nel rispetto per quanto possibile dell'ambiente quindi utilizzo questi prodotti che sono naturali anche perché chiudere le grigie a meno 20 vuol dire ghiacciare tutto e se ti si ghiacciano le grigie è un grosso problema quindi voglio evitare e partirò con le grigie aperte poi pacchini pacchetti e vari non che mi ricordo cosa ho ordinato vabbè ok ho ordinato questa lucina per per vloggare sia sul telefono sia sulla macchina fotografica sia su non lo so ovviamente fa una luce minima adesso neanche si vede però quando utilizzerò iphone o gopro per vloggare probabilmente potrebbe servirmi per fare giusto quel minimo di luce che serve per è piccolina anche perché voglio essere voglio essere voglio essere sta filmando dove cazzo è? voglio essere il più insomma voglio del non del materiale degli accessori che mi permettano di girare dei video di discreta qualità in poco spazio inutile avere fotocamera luce coso cazzi che poi tanto i video su youtube non serve chissà che qualità edizioni effetto me ne ha inviato non lo so Matteo Gracis lontano dieci viaggi che cambiano la vita ok grazie non so non so chi me l'abbia inviato ma grazie poi qui c'è una batteria credo perché quando c'è questa cosa qua su amazon dai vuol dire che c'è una batteria ah ok allora il power bank che avevo prima che aveva tipo un anno mi ha mezzo abbandonato non funzionava spero che non ci siano persone fissate con il rovinamento dei pacchi perché io li apro molto male ma l'avrete già capito ormai e quindi ho ordinato questo power bank che è molto sottile ma anche molto grande quindi non so se ho fatto la scelta esatta sì abbastanza grande però sti cazzi speriamo che funzioni ha due prese usb normali una credo usb 3 un usb c e poi altre prese e da 26.800 ampere milliampere ora scusate e e niente quindi la cosa bella è che ha già la sua custodietta dentro c'è ovviamente cavetto per la ricarica e niente lo proverò perché a volte avere un power bank extra per quanto io sia ormai autonomo con le mie batterie con la mia batteria a litio pannelli solari e tutto avere una batteria extra se non due non è male anche perché vorrei fare un po' di timelapse all'aurora e la batteria della mia Sony A7 III al freddo come tutte le batterie patisce per questo motivo quando farò riprese di questo tipo userò il power bank collegato alla fotocamera allora questo invece è un pacco di Diego Zilibotti vabbè non so cosa sia ma che è no no vabbè comunque cioè sul cibo se volete regalarmi qualcosa andate sul cibo andate sul sicuro allora no vabbè vabbè ragazzi vabbè ma io piango ma io piango ma che figata allora parmigiano reggiano per cerì grazie mille e poi salame salame a volontà questa è grossa grazie mille grazie mille sicuramente quando fate regali di questo tipo non sbagliate per Iari ciao sono Diego ho 16 anni e vengo da Vignola in provincia di Modena cioè il fatto che qualcuno di 16 anni mi segua per me è un onore il fatto che mi regali qualcosa vuol dire che mi mi stima molto e quindi wow ho iniziato a seguirti in quarantena e tutti i giorni aspettavo con ansi i tuoi video perché almeno con la testa mi facevi sentire libero invece che rinchiuso in quattro mura domestiche ho approfittato di farti questo regalo per ringraziarti di tutto e per dirti di continuare così perché farai strada ciao da parte mia e di mia madre che ti segue dopo che le ho fatto vedere un tuo video bella grazie Diego poi 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 vediamo cos'altro ho preso questo è un pacco che ho ordinato io ah sì mi hanno regalato un non riesco a parlare oggi un dentifree uno spazzolino cazzo ce la posso fare uno spazzolino in bambù e in effetti ho pensato che da quando vivo in camper ho iniziato a cambiare un po' le mie abitudini quando posso purtroppo non sempre non è così facile faccio la raccolta differenziata ho iniziato a sprecare molto meno la plastica perché prima compravo le bottiglie in plastica che sono una cosa assurda ho comprato delle bottiglie in vetro di Ikea da un euro da un litro e ogni volta faccio l'acqua nelle fontane quindi non spreco più plastica perché nella vita normale c'è un sacco di spreco di plastica e quindi niente ho deciso di comprare questo pacchetto con 4 5 6 7 8 9 10 non erano 8 no sono 10 buono 10 spazzolini in bambù quindi penso che sia un buon sistema per ridurre almeno in parte il consumo e la produzione di plastica ne ho comprati 10 perché comunque l'ho provato non dura tantissimo però va bene allora uh raga le lucine le lucine instagrammabili ma ho comprato quelle giuste ma non lo so ah no queste mie non erano arrivate a suo tempo ok vabbè lucine instagrammabili che fanno una una situazione molto diciamo molto 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 romantica insomma lo utilizzo quando incontro vabbè la finisco qua comunque per tutti quelli che pensano che io non faccia fichi fichi poi ho comprato non so perché ma una protezione per l'hard disk io uso hard disk da 4 terabyte USB 3 USB 3 e è importante tenerli protetti perché se dovessero mai cadere perderei tutti i dati quindi fate attenzione quando utilizzate hard disk esterni e soprattutto teneteli all'interno di custodie protettive perché se cadono così insomma è difficile che si spacchino se cadono per terra da un metro o due di altezza perdete tutti i dati e perdere i dati non è una bella cosa sto ancora registrando spero di sì adesso lo guardo allora sto registrando perfetto qui cosa ho ordinato non ho idea di cosa sia come ho detto prima ci sono dei pacchi che ho ordinato magari a tre mesi fa quattro mesi fa quindi non me lo ricordo ok sì ho comprato queste che sono del adesso vi faccio vedere sono delle confezioni dei sacchetti che servono per tenere la verdura e soprattutto questo secondo me è carino perché posso appendere frutto e verdura e lasciarla fuori e non metterla all'interno di sacchetti di plastica uno per evitare sprechi di plastica e due per far passare aria e non far marcire tutto cosa che ogni tanto purtroppo succede ma che è comunque prima o poi mi salta un dito fareste un box ma che è ah scusate questo me l'ha inviato ciberti massimo bella storia grande mi ha inviato del caffè uno due e tre urca lui ha scritto ciao Iari spero si riesca a leggere la mia calligrafia si ragazzi non scrivi benissimo però che se ne frega 26 gennaio 2021 sono Massimo e seguo i tuoi video su youtube da un anno molto volentieri con la tua voglia di libertà e di conoscere posti nella natura sei sempre faccio difficoltà scusate non è per prendere in giro però sei sempre riuscito a darmi è veramente un po' difficile da capire la tua calligrafia Massimo però ti ringrazio molto è è allegria soprattutto in questi momenti non molto facili ti ho regalato volentieri queste confezioni di caffè perché io ho una torrefazione di caffè si dice così 40 anni questo è il caffè che produco io ah grande e visto che ogni giorno guardo i tuoi video facendo il tuo caffè la mattina ho pensato di farti questo regalo omaggio mi 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 accredanti di video che tutti puoi seguire molto volentieri grazie ciò ciao salute scheri Massimo non ho capito tutto perché scrivi un po' maluccio Massimo però non importa il messaggio è arrivato e ti ringrazio molto le metto via queste letterine che le tengo bevo un po' di birra poi faccio così coi pacchi poi non dite che li tratto male che cosa perché i pacchi sono miei e li tratto come caffè mi pare niente questo pacco si sa d'apri così ma che è no raga questo qua no devastante allora la patrick baroni no questa è una roba che non cioè non non avrei mai pensato di di avere un lego con la mia la mia figura la mia la mia faccia vado a vivere nel camper Yari Ghidone 2017 2018 tra l'altro Yari scritto con la Y non finale ma questi sono dettagli e comunque niente sono passato ad essere un cazzone essere un cazzone che ha la figurina dei lego non so lui mi ha detto guarda la facciamo non credo che questa cosa possa avere cioè una cosa che voi vi comprereste non lo so vabbè fatemelo sapere nei commenti se vi piacerebbe perché non lo so io ho le mie idee e non mi sento nessuno però vabbè è una cosa molto simpatica uh bene è già arrivato piccolo allora io ultimamente ultimamente ormai da quasi un anno ho comprato l'iPhone 11 a luglio a luglio e utilizzo un sacco l'iPhone però sono sono anche convinto che la GoPro sia molto comoda scusate guardo se registra sono convinto che la GoPro sia molto comoda sono anche convinto che dalla 6 alla 8 abbiano fatto dei grandi passi in avanti perché io la 8 non ho preso la 9 perché sembra un po' esagerato ogni volta prendere la GoPro nuova la 8 fa ottimamente il suo lavoro sono anche convinto però che abbiano fatto un ottimo passo in avanti dalla 6 alla 8 per quanto riguarda l'audio però poter migliorare un po' la qualità dell'audio nei video è molto importante forse più del video in sé in alcune situazioni quindi quindi mi sono un po' perso nel discorso però ho deciso di comprare il mod che è un accessorio extra la GoPro si mette all'interno vediamo se riesco già a romperlo ok la GoPro si inserisce così ha un microfono direzionale davanti dietro poi ha due slitte dove si possono inserire per esempio questo microfono che ho si può inserire una luce eccetera eccetera quindi rende la GoPro uno strumento per vloggare abbastanza completo quindi ho deciso per la modica cifra di 89 euro di acquistare questo accessorio per la GoPro e quindi di rendere la GoPro uno strumento più performante per quanto sia piccola comunque ha un'ottima qualità e per fare video su YouTube è perfetta poi vabbè Franca mi invia questo che è il giornale l'unione sarda del 3 gennaio 2021 dove è uscito l'articolo eccole qua dove è uscito l'articolo della multa e poi ha stampato ha stampato ha fatto fare queste medagliette per per Sherry col mio numero segnato 34 XX grazie mille poi ho ordinato ho ordinato troppe cose ho ordinato ho ordinato un termometro per quando lo andrò in Svezia da mettere all'esterno perché sarà curioso vedere la temperatura che c'è per esempio adesso segna 12 gradi carino beh un termometro non è che debba fare chissà quali lavori poi batteri uh qua forse ho capito no perché adesso vi devo raccontare un sacco di cose lo so che sono un po' confusionario perché uh ah sto male allora scusate mi calmo no no mi calmo mi calmo mi calmo mi calmo ma quanta roba no ma questa è follia ragazzi è follia datemi pure del consumista avete ragione allora ho ordinato un telecomando remoto per la mia sony a7 III 39 euro se non sbaglio si può anche programmare per fare i timelapse è tutto quindi molto comodo per 39 euro tarocco va benissimo qui ho ordinato non ho la minima idea cosa ci sia qui all'interno ah queste sono due staffe per montare dei fari supplementari i fari supplementari come potete immaginare sono questi qua della Ella che aprirò a breve poi ho preso questo che è una presa accendisigari con presa totale 45 watt presa usb 3 e soprattutto quella usb c perché ho notato che caricare il telefono con usb c è molto più veloce e quindi l'ho presa per tipo 15 euro va bene poi h7 per per gli abbaglianti o un abbaglianti vabbè prima era un h1 h7 non mi ricordo mai comunque il ducato x250 quello che ho io 2006-2014 ha h7 e h1 e l'altro per ero abbaglianti e io mi confondo sempre poi ho comprato questo avvitatore mini che non so quanto faccia il suo lavoro però l'ho montato principalmente per montare i chiodi quando sarò in Svezia perché non posso avvitarli a mano ci sono circa qui c'è anche tutto il kit per i vari c***i e ma credo che mi servirà anche per altre situazioni non so quanto sia potente però comunque per tipo 25 euro per 25 euro direi che va benissimo poi ripeto devo montare i chiodi in Svezia appunto come dicevo andrò su fino all'ingresso della Svezia quindi prenderò il traghetto in Germania con le gomme chiodabili cioè senza chiodi anche perché non credo che sia legale viaggiare in Italia Svizzera e Germania con le gomme chiodate però utilizzerò appunto questo questo avvitatore per montare i chiodi che sono circa 100-120 per ogni gomma e sarà una bella rottura di c***oni però quando c'è ghiaccio e basta non ci sono alternative u la la u la la u la la fari supplementari eccoli qua devo dire che sono dei bei padelloni e sono della ella li ho pagati 50 euro 52 ahimè ella 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 non è sponsor anche se gli farò un botto di pubblicità perché c***o la scritta è gigante anzi voglio subito vedere come stanno davanti c***o che arroganza porca p***a scusate per le esclamazioni ma sono abbastanza arroganti devo dire che secondo me uscirà un bel lavoro andrò a montarli da Antonio di Wild Road Garage che mi ha già dato un po' di dritte e vorrebbe fare lui delle staffe per montarli da quanto so io se vengono montati alla stessa linea dei fari originali e vengono coperti non ci sono problemi infatti qui come vedete è inclusa la copertura che è fatta anche abbastanza bene quindi cosa significa che in montagna o in Svezia sicuramente non dovrei avere problemi di sicuro non girerei con vorrei evitare di girare in autostrada o in città senza la sua protezione perché per quanto io possa fare attenzione magari potrei utilizzarli potrei accenderli per sbaglio in strada e potrebbero creare pericoli per la cosa vabbè in poche parole bisogna fare attenzione però se sono coperti non dovrebbero esserci problemi vorrei montarne boh non lo so vorrei montarli io volevo montarli sotto o due o quattro sotto però Antonio mi ha detto che anche sopra potrebbero fare la loro sporca figura però sopra cioè sopra nella parte alta del mezzo forse sono illegali quindi devo vedere un attimo cosa fare poi altre lucine instagrammabili perché sì perché le lucine instagrammabili servono sempre e comunque no ma ragazzi ma io sono a mezz'ora di video e ho aperto la metà dei pacchi allora questo qua è stato inviato da Roberto Gascotta e all'interno ci sono dei prodotti che io utilizzo molto due due saponi di Marsiglia della Winnis e quattro multiuso sempre della Winnis quindi sono sempre prodotti naturali è uno sgrassatore universale però è naturale quindi discorso di prima posso utilizzarlo per pulire il camper un discorso grigio eccetera eccetera sono tranquillo no c'è veramente troppa roba comunque bene scusate ma la Sony non so perché ogni tanto ha dei problemi e dopo tipo 20-28 minuti ha smesso di stoppare quindi l'ultimo pezzo lo metterò con quello lì ci sarà un audio del cazzo vi chiedo scusa ah bene ho scritto a Scrubba un'azienda boh australiana che fa dei prodotti che sicuramente avete già visto nei video di Stefano e Veronica servono è una mini lavatrice portatile è semplicemente un sacco che permette di buttare dentro i vestiti l'acqua un po' di sapone di Marsiglia bagno schiuma e niente permette di lavare i vestiti sicuramente lo utilizzerò molto in viaggio in avete capito in in Svezia perché non potrò lavare i vestiti fuori perché a meno 20 lavare i vestiti fuori no anche perché si ghiaccia sicuramente l'acqua e quindi niente mi permetterà di lavare i vestiti in camper di stenderli magari in bagno probabilmente prenderò il vizio di lavare due mutande al giorno due magliette al giorno così ogni volta non mi ritrovo con una valanga di roba da lavare se per caso il video di prima mancante non dovesse essersi sentito ho ordinato dei fari supplementari questi qua sono della Ella sono piuttosto grandi e piuttosto molesti ho già fatto una prova adesso e vorrei montarne due o quattro sotto però poi sono andato ad Antonio di Wild Road Garage e lui mi ha detto ma no perché non li montiamo anche sopra quindi è uscito un attimo il momento di ignoranza insieme vendono anche questo questo cappuccio che serve per poter girare tranquillamente per quale motivo perché da quanto ho capito se vengono montati all'altezza dei come si dice dei fari originali quindi abbiate a mente in questo momento il muso del Ducatone se li monto alla stessa altezza dei fari non è un problema però se li copro è meglio nella parte alta invece forse vanno coperti sempre perché se no possono romperti le scatole in ogni caso ovviamente non li uso per sfanalare i risvoltinati con l'Audi che non sanno guidare e fanno da tappo in autostrada i 120 però li volevo utilizzare per una questione di sicurezza in montagna soprattutto nel nord Europa e in Svezia perché se prendo se dovessi mai non vedere un alce potrei rischiare seriamente la vita quindi a volte ironizzo sul discorso sì che sono belli da vedere questo senza dubbio perché boh fanno molto mezzo 4x4 però li ho presi principalmente per un discorso di sicurezza alla guida li userei anche in montagna sulle Alpi così facendo ovviamente attenzione a disattivarli ogni qualvolta dovessi incontrare un'auto spero di aver azzeccato i verbi perché ho veramente rischiato in questo caso ok poi vediamo qua cosa c'è non ne ho idea cavolo attenzione aprire con cautela ah wow questo è un cioè ogni regalo che ho aperto adesso mi ha fatto piacere perché comunque vuol dire che in qualche modo io ho ho lasciato qualcosa nelle persone no per quanto io io penso di essere una testa di c***o fondamentalmente perché sono un ragazzo come tutti semplicemente però ho un seguito e condivido la mia vita forse forse perché perché sono me stesso forse il mio successo deriva da questo però niente tazza Yari e Sherry è molto bello è molto carino è un regalo molto apprezzato la metto qui da parte la felicità nelle piccole cose ricordati di essere felice sono assolutamente d'accordo è un po' il mio il mio pensiero non da quando vivo in camp ma da un anno a questa parte ho fatto veramente dei grandi passi in avanti su me stesso e bisogna essere felici con poco e soprattutto bisogna essere felici qui ed ora bisogna godersi il momento e non farsi troppe paranoie perché se no non si vive sereni almeno questo è quello che ho pensato io pacco interessantissimo allora come alcuni di voi sanno Sonos mi aveva dato in prova una Sonosmove che è una una cassa per l'outdoor io la uso all'interno del Ducatone a volte anche fuori quando sono con amici a fare un fuoco a fare un po' di festa che fa sempre bene però ho pensato bene di richiedere di fare un impianto fisso quindi ho preso due Sonos ho chiesto due Sonos One che mi sono state mandate da Sonos Italia e sono due casse che non sono create per l'outdoor ma io vorrei fare un impianto fisso all'interno del Ducatone semplicemente per una questione di comodità per quale motivo perché per quanto il Sonosmove vada bene è comunque una cassa con batteria quindi ogni volta va caricata sì che la batteria dura circa 10-11 ore però comunque ogni tot devi ricordarti di caricarla invece con due casse così collegate alla 220 tramite l'inverter potrei essere più tranquillo e oltretutto mi sembrano belle cazzute nere sono anche belle da vedere e si collegano in Wi-Fi non in Wi-Fi e Bluetooth come la Sonosmove però non importa le collego in Wi-Fi tramite il router che ho all'interno del Ducatone e ne voglio mettere una davanti e una dietro sarà un po' una rottura di scatole far passare i cavi però vabbè si fa il lavoro una volta e poi quando entro in camper le accendo e sono a posto appunto ne ho due anzi adesso le rimetto all'interno così vedo un po' dove andare a fare questi lavori perché insomma non è poi difficile montarle però non so dove far passare i cavi della 220 e quindi non lo so vediamo ah ok ho preso un in realtà è stato un acquisto pessimo però vabbè tanto questo mi serve ho comprato un liquido come si chiama olio biodegradabile per catene per la mia sega elettrica moto sega elettrica moto sega batteria sega batteria insomma avete capito è un po' caro l'ho pagato tipo 10 euro mi sembra un po' tanto perché con 5 euro ne ho comprati due però questo è biodegradabile quindi dovrebbe essere meglio non lo so vabbè comunque quelli il il liquido per la catena da batteria finisce in fretta quindi meglio uno in più che uno in meno ma che è allora a questo me lo invia scusate cavolo achille grazie d'achille che mi manda d'achille ed anzi ed anziana madre elena scusate sono un po' oh quanto ha scritto figo ciao ciao yari ciao yari ciao yari ciao shery siamo achille ed elena e finalmente vi possiamo viare qualcosa per farvi sentire che vi siamo vicini piccola shery il cappottino che avevo lo avevo comperato per una dolce cocherina come te che ho avuto in stallo nove mesi e che da giugno ha la sua famiglia grande fighissimo brava spero ti piaccia lei ormai veste solo di rosa ma tu sei selvaggia come me yari hai fatto una scelta di vita particolare ma ideale in questo periodo ed è bello guardare le tue storie e vivere per un po' i tuoi momenti con te magari sentire quasi l'odore dell'erba bagnata ovviamente questa parte questa parte sono i miei pensieri elena per achille scriverò dopo scriverò dopo mi raccomando shery salutami quando sei in diretta un grande abbraccio a voi due elena da achille ciao yari ti ho conosciuto per caso su youtube durante il lockdown all'inizio pensavo che vivevi in camper perché avevi perso casa insomma un barbone faccina sorridente poi ho capito che invece era una scelta di vita e quasi ti ho invidiato perché eri libero con i tuoi video mi hai aiutato ad affrontare quei giorni così difficili e a rendermi conto di quanto poco basti nella vita per essere felici ho vissuto la natura con te ho imparato ad apprezzare e rispettarla molto di più anche se da svizzero sono educato a rispettarla ma tu ci vivi e la vivi a pieno spero che i pensieri dolci che ti ho inviato possano piacerti e farti sentire un po' della Sicilia e se passerai da queste parti sarebbe bello averti i nostri ospiti a cena o a colazione quando vi pare sei una persona semplice hai tutta la mia stima un saluto Achille PS Cherie ti adoro ci vediamo dopo eh ciao dove vai a parcheggiare sto andando via ah vengo a salutarti allora scusate scusate sto lavorando e ho visto scusa mi guarda ciao ciao piacere e mie donne tutto bene? in Sardegna tutto posto? si dai sotto oh mi hai persi di chili eh dici? ho solo dovuto birro ho detto che eri su con le peli di fifoca perché ho visto il tempo chiuso ho detto non c'è ma perché tanto le batterie sono cariche ma se sapevo che eri qua ma sono arrivato due ore fa eh ah no io sono qui da un paio di giorni ma adesso è finita ma in area bravissima ma è tranquillo lì? è vuoto ma c'è la corrente? si gratis non lo dire in video mai non lo dire in video ciao ieri ci vediamo ciao ne grande ho incontrato Guido è un ragazzo che ho conosciuto a Prali e non so sono quegli incontri piacevoli l'ho conosciuto dopo il lockdown questo l'apro dopo crocchette per scary che sicuramente apprezzerà uh crocchette per scary molto buone apri bottiglie con scritto Sicilia oh eh chicchi di caffè in cioccolato fondente wow poi no questi se sono quelli che penso sto male no no che sto male no sto male sto male questi qua sto male fuori Gaetano Stuto mi aveva inviato un pacco simile e no comunque Guido ha detto che ho perso dei chili eh secondo me non è vero sono ingrassato ma la vita è una quindi sti c***i cappottino per scary molto wild ma do raga guardate che wild mi piace figo io glielo farò provare ogni tanto ogni tanto passa la gente e dirà ma sto c***o che c***o fa crema di mandorla crema di mandorla 17 gradi bene m***a solo alcolici mi regala la raga spettacolo ma che è ah oh è un cannino questo questo come si chiama aspetta non mi ricordo il nome raga cioè so benissimo chi me l'ha regalato prodotti per la pulizia però non mi ricordo che ringraziare abbiate pazienza ma che è uh grande qui è uno che mi segue aspetta il nome madonna non sono più in grado di fare un video niente non c'è il nome però è un ragazzo che mi ha scritto e mi ha detto volevo regalarti una caffettiera nuova e quindi caffettiera nuova girerò con tre caffettiera in camper meglio in più che in meno qui ringrazio Riccardo madonna raga mi sa che lo divido a metà sto unboxing perché non cioè durerà un botto ma non ha senso un unboxing di ora ma che c***o se lo guarda comunque allora mi ha regalato un cappellino ma non ci credo una felpa un pile un altro cappellino un altro cappellino no vabbè una maglietta L lilla un'altra maglietta lilla non lilla scusate grigia un'altra maglietta marrone sempre L credo sono L L io porto L sì e poi un sacchettino è fico qua cosa no vabbè no vabbè no vabbè no piccola scary dai è bello vedere l'affetto che dimostrate verso sherry un po' anche verso verso me lo so però so bene che mi seguite perché c'è piccola scary no scherzo dai però è veramente molto molto bello e io l'apprezzo tanto e sono sicuro che escerì anche non parlando a prezzi bene ragazzi c'è una quantità di pacchi che non non avete idea questo me lo invia Federico lavanda dei Sibillini ah sì avevo parlato con non mi ricordo io parlo con troppe persone ah ok è un calendario sui Sibillini zona che amo sibilliniweb.it e molto bello perché quella zona spacca uh qua è piani di ragnolo credo si chiami così come c'è scritto? piani di ragnolo sì acqua canina spettacolo vabbè Castelluccio di Norcia con un con un uccellino bellissimo i Sibillini sono una zona che vi consiglio assolutamente di vedere perché c'è una natura meravigliosa sono un posto magico oltre al fatto che hanno sicuramente bisogno di turismo per risollevarsi dal terribile terremoto del 2016 se non sbaglio quindi non solo vi consiglio vi consiglio di andarci non solo perché ci sono posti bellissimi ma anche perché sicuramente meritano di ricevere del turismo poi sono si mangia bene sono tutti gentili belli poi tra l'altro Sibillini dove tornerò per incontrare Olaf una persona molto più ignorante di me quindi ciao Olaf ci vedremo presto allora questo pacco è di Luca ciao Iari dopo un buon bicchiere di vino ci vuole una buona tisana Valverbe Valverbe è un po' difficile dopo due birre per tua gioia PS per tua gioia la tisana vin brulee si prepara nel vino molto bene madonna raga mi hai inviato un botto di roba non posso tirar fuori no ma troppa roba cioè raga solo tisane così smetterò ma che odore mi hai inviato un botto di roba un botto di tisane un botto di qua non lo so cos'è protettivo manieco ma io non lo uso non c'è virus no scherzi a parte bene molto carino mi piace non so dove metterò tutte queste tisane perché non ne consumo tante però le proverò volentieri sicuramente in in Svezia le apprezzerò con tutto il freddo che ci sarà poi uh questo è un pacco bellissimo che si spacca in due allora mamma mia ho registrato tipo 50 minuti ma io l'avevo detto che sarebbe uscito un unboxing di un'ora però vabbè qua cosa c***o c'è tra l'altro quello che un po' dispiace è che in tutti questi pacchi c'è veramente un sacco di plastica però forse non c'è modo di diminuire ma ma che è sta roba ma chi ne ha mandato questo no no aspetta calma questo arriva dalla Cina questo secondo me è tipo da mettere all'interno del di un secchio e serve per lavare i vestiti Ultrasonic Turbine Wash ma sicuro che è questo sì che figata ma chi è che me l'ha regalato come faccio a non ringraziare ma che figo è minuscolo si collega all'USB con un power bank e quindi questo gira e girando si lavano i vestiti con la ventosa cioè è una figata oddio non so se funzioni faccio il suo lavoro però wow grazie non so che ringraziare però mi sento un po' maleducato spero che nessuno si offenda e ci sono anche le istruzioni quindi figo grazie ho passato un'estate intera e l'autunno e anche l'inverno direi lavare i vestiti a mano è un piccolo aiuto diciamo che può far comodo poi Fragile cosa c'è? c'è virus qua ma che è? da bere sicuro mamma mia che fama d'alcolizzato che ho ormai noo mastia sto male e dove lo metto io questo? no è fighissimo è fighissimo però ma voi mi rendete un alcolizzato cioè io già sono alcolizzato ragazzi guarda qua ma qui ci sta un litro di birra qua quant'è? mezzo litro ci starà una 66 mamma mia grazie però aspetta ma di chi è il regalo? nooo ho mischiato i pacchi qual'era? no no vabbè ragazzi scusate però grazie a chi mi ha regalato il boccale per la birra per ultimo ma non di meno importanza questo pacco è inviato dalla Fennec un'azienda che ho contattato perché secondo me fanno questa roba che è tighissima per grigliare adesso vi spiego velocemente che cos'è allora il custode di protezione inutile tiro fuori tutto e poi vi spiego che sicchia eh? allora vabbè devo capire come si monta un attimino questo posso aprirlo in realtà praticamente è una griglia in metallo in alluminio in acciaio forse in acciaio non lo so comunque è creata per mamma mia quanta carta per fare il fuoco quindi non lo so io per esempio penso che sia così no al contrario no ok sì così così no così quindi si chiude in questo modo però allo stesso tempo si può montare in un attimo scusate eh prendo confidenza ok e quindi niente qua sopra si può questo è l'hexagon stand up quindi qui sopra ah no ma in realtà è una cazzata ok si monta questo poi si montano questi e la madonna ma quanti sono scusate ho bisogno un attimo di prendere le istruzioni eh ah ok ok vabbè ci sono mille modi per montarlo poi c'è questo che è l'hexagon quindi è un bracere in poche parole che può essere utile può tornare utile nelle situazioni in cui fare un fuoco può essere a terra fare un fuoco a terra può essere pericoloso e utilizzando questo sistema si separa il fuoco dal terreno quindi può essere più sicuro e soprattutto non si lascia traccia sul terreno cosa che magari in alcune situazioni può essere utile non lo monto ora perché non ho voglia però sicuramente è una cosa che utilizzerò il prima possibile poi questo è il kit completo eh completo tutto senza scipola allora questo ok questo è sicuramente il pezzo più interessante per quale motivo perché provo a montarlo da solo anche se non lo so se ce la farò wow voglio provarlo ora praticamente è molto simile a questo però questo non si può usare per cucinare anche se secondo me resiste cosa succede che scusate eh poi forse c'è anche un modo per fissarlo boh in poche parole che cos'è questa è una griglia ma devo provare se boh comunque è una griglia qui c'è una piastra e qua c'è una griglia con i fori quindi in base a come si vuole cuocere ci sono questi due sistemi di di cottura eh dovrebbe essere abbastanza resistente in ogni caso lo sapete bene che la proverò il prima possibile e niente cosa dire devo devo sicuramente provarla per capire come funziona però dovrebbe essere una gran figata niente ehm cosa dire grazie per aver visto quest'ora di video spero che vi siate divertiti insieme a me ad aprire questi pacchi come ho detto all'inizio ringrazio tutti ringrazio tutti per questi regali perché sono sono da me molto apprezzati mi fanno capire che il mio lavoro per quanto semplice viene apprezzato e quindi questo sicuramente è un ottimo è un ottimo risultato insomma mi fa capire che devo continuare a fare quello che mi piace è quello che mi piace è apprezzato quindi fai qualcosa che ti piace e non lavorerai un giorno nella tua vita questo è un po' il mio il mio motto quindi niente ragazzi ovviamente ovviamente cercherò di mettere tutti i link dei prodotti che ho comprato ricevuto in descrizione nel primo commento così se vi piacciono potete acquistarli non li ho provati perché insomma mi sono arrivati adesso però sicuramente per esempio questo vorrei testarlo in questo momento e fare un fuoco in mezzo al piazzale di Sestre ma forse non mi sembra il caso e quindi niente come sempre vi ricordo che se acquistate tramite i miei link di Amazon a me arriva una piccola percentuale che va dal 2 al 3% quindi mi permette di di pagarmi un po' le spese viaggio benzina autostrada no benzina spero di non metterla mai gasolio la spesa le birre insomma quello che volete voi a voi il prezzo finale non cambia però a me aiuta un pochettino niente detto questo grazie di tutto io spero che quando pubblicherò questo video sarò già in viaggio ma non so come vanno le cose come andranno le cose cerco di vivermi alla giornata quello che viene e soprattutto cerco di avere il mezzo pronto per i meno 25 e poi se riuscirò a partire bene se non sarà così andrò altrove grazie di tutto ragazzi e ci vediamo alla prossima bella ahhhh ahhhh urgh uuuggh ahhhh